Buongiorno a tutti, sono molto dispiaciuta di non poter essere con voi a Biella per la chiusura del centenario della Lega Italiana per la lotta ai tumori, ma ci tenevo in ogni caso a inviare il mio contributo e a sottolineare l'attenzione che il Governo ha nei vostri confronti. Saluto il Presidente Francesco Schittulli, Presidenti Provinciali, Coordinatori Regionali della Lilt, tutti delegati e volontari presenti. La Lilt è un pilastro nella promozione e nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica in Italia. Da cento anni le istituzioni italiane possono contare sulla vostra dedizione, sul vostro instancabile impegno per ridurre i fattori di rischio e le cause che portano alla malattia, per informare i cittadini sulla diagnosi precoce, per prendersi cura delle persone che vivono e hanno vissuto questa esperienza e hanno bisogno di essere ascoltate, aiutate e accompagnate. Come sapete meglio di me il tumore ha una componente psicologica che può incidere molto sul malato. Per questo aiutare chi sta vivendo la malattia a non scoraggiarsi, a non sentirsi solo, a continuare a combattere può fare la differenza. La Lilt ha svolto un ruolo fondamentale nel corso di tutta la sua storia, in particolare in quei periodi nei quali i media e la scienza non avevano quegli stessi strumenti che hanno oggi per informare velocemente e raggiungere in poco tempo tantissime persone. I vostri associati, i vostri volontari sono delle vere e proprie sentinelle della prevenzione, che su tutto il territorio nazionale donano una parte del loro tempo e della loro professionalità per aiutare il prossimo. È la bellezza del volontariato, dell'associazionismo, di quella vasta rete di enti di solitarietà sociale che innerva la nostra nazione e la rende da sempre un esempio da seguire. L'Italia è orgogliosa di voi e vi ringrazia per il vostro lavoro. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.